La presentazione della nuova green refinery di Gela è venuta giorni dietro alla presenza dei massimi vertici del colosso industriale monitorata dal Partito Democratico. Ci sono alcuni punti, sottolineano i rappresentanti locali del PD, che bisogna analizzare a fondo il segretario cittadino Peppe Di Cristina. Il Partito Democratico su questo ha avuto sempre una posizione certa, almeno da febbraio da quando sono stato eletto io, cioè l'industria Gela deve rimanere, un'industria diversa, ecocombatibile, ma deve rimanere, nel rispetto delle maestranze e dei lavoratori che hanno dimostrato una qualità professionale di altissimo livello. Ma va portata avanti senza demagogia e populismo. Il tema che pone il Partito Democratico è la questione che non può essere localistica, va investita in Vitalia, è una questione regionale e nazionale e per questo io, senza fare un comunicato di stampo ogni tre minuti, sono permanentemente in contatto con il segretario regionale del mio partito, che è l'onorevole Ragiti, proprio perché la questione va tenuta sempre a livello regionale e nazionale. Dunque i fari bisogna sempre accenderti su Gela. Certo, non solo devono essere sempre assolutamente accesi, ma la questione non può diventare localistica o provincialistica, perché lì noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato in queste settimane. Per il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta, gli interventi annunciati dall'ENI devono essere messi subito in campo, garantendo occupazione immediata, soprattutto ai lavoratori dell'indotto. Da solo il protocollo d'intesa non è sufficiente a garantire la rioccupazione di tutti i lavoratori dell'indotto. Infatti ho sentito parlare di investimenti aggiuntivi, ma quando si parla di investimenti aggiuntivi, di fatto si sta cercando di riaprire il protocollo d'intesa, perché solo attraverso investimenti, nuovi investimenti, nuove attività imprenditoriali, nelle quali l'ENI secondo me deve essere il fulcro di questi nuovi investimenti. L'ENI deve cercare di portare nuove attività collaterali alla Green Refiner e comunque a tutte le nuove attività ambientali che si andranno a sviluppare da qui a qualche anno. Solo così prendiamo consapevolezza che si può garantire l'occupazione e comunque risollevare le sorti dell'indotto per dare una nuova speranza di sviluppo alla nostra città. Ecco, una nuova speranza di sviluppo, ma tempi certi per coloro i quali lavoravano nell'indotto e ora purtroppo ne stanno piangendo le conseguenze? L'unica preoccupazione della politica deve essere questa, di cercare di accompagnare questi lavoratori all'apertura dei nuovi candieri. E' di questo che ci dobbiamo preoccupare, di garantire l'emergenza, la fase di transizione, che per quanto mi riguarda, ma penso che ce ne siamo accorti tutti, sta durando fin troppo tempo.